Siamo con Lorenzo Lugli, sindaco di Fanano, siamo in località Trignano, dove le scuole elementari e medie sono state recuperate anche grazie al piano di sviluppo rurale. Com'è stato questo investimento? Cosa avete fatto? Questo è stato un investimento importante anche perché ci ha permesso sul piano di sviluppo rurale 2007-2013, come dici tu, l'asse 3, di recuperare un edificio importante, storico, salvaguardato anche dai beni della sommentendenza di Bologna, di consulenza, un recupero qualitativo ci è stato richiesto e noi abbiamo realizzato. Un intervento che ha dato un senso a questa meravigliosa struttura, che è una scuola, scuola si dice materna, ma in realtà all'epoca racchiudeva un po' tutte le classi, anche perché spostarsi in montagna negli anni dell'immediata della prima guerra e dopo guerra non era così facile. Un recupero che ha dato luce, dicevo, a un edificio che oggi diventerà qualcosa di molto importante per la nostra comunità. Questo contributo che si è concretizzato su un primo progetto di 250 mila euro, di cui il 70% della provincia. E quindi il museo, quando sarà ultimato, ospiterà tre tematiche in sostanza? Sì, esatto, questa è la grande forza e l'idea che sostiene anche l'iniziativa che l'amministrazione comunale ha avuto e ha tuttora per procedere con altri investimenti. Partiremo sicuramente come prima apertura del museo sulla civiltà coltadina, perciò del recupero delle tradizioni, del presentare soprattutto rivolte alle scuole, perché la nostra idea è quella di poter sviluppare dei progetti con i provveditorati e gli studi della provincia di Modena, un vero canale di fruibilità delle scuole, perciò la didattica attraverso un museo statico, no, ma un museo interattivo e attivo, quello sicuramente. La civiltà contadina che presenterà i vecchi sistemi, i vecchi modi che una volta venivano utilizzati per produrre gli alimenti che sostenevano i nostri montanari, ma anche, come dicevi giustamente tu, altre tematiche. La tematica di Felice Pedroni. Felice Pedroni, l'uomo simbolo della nostra immigrazione, anzi l'Emilia Romagna ha colto in Felice Pedroni, in Felix Pedro, il simbolo, quasi il testimonial di questa grande parte, grande fetta della nostra civiltà, della nostra storia, l'immigrazione. Perciò Felice Pedroni riceverà il suo spazio attraverso la presentazione di quella che è stata la sua vita, il suo percorso. E poi il museo ospiterà quindi anche una rievocazione, una ricostruzione di quella che è stata la battaglia lungo la linea gotica che passava proprio qua vicino. Sì, esattamente. Grazie al DUP regionale che ha progettato e approvato il progetto del recupero della storia della linea gotica e alla provincia di Modena abbiamo ottenuto un contributo su un progetto di 222 mila euro, un contributo pari al 60%, il 40% sono risorse della nostra amministrazione. Saremo in grado di ricostruire un museo tematico interattivo appunto sulla linea gotica che coinvolgerà sicuramente la frazione di Triniano perché qui sono svolti i combattimenti, ma coinvolgerà anche i nostri amici della Decima Mountain Division che da anni rievocano le loro azioni per le quali noi siamo veramente grati perché hanno partecipato insieme ai nostri partigiani al creare quella che è la società di oggi libera e democratica. Dicevo attraverso la loro partecipazione attiva creeremo dei momenti di vita che questi soldati, questi partigiani hanno vissuto nel nostro territorio e appunto sulla linea gotica. Grazie per la visione!